Enzio, diceva il padre che a volte si nascondono perché hanno paura e vuoi interpretare, interpretare con il dono dello spirito e poi dice che ha bisogno di pazienza, vigilanza e onesta self confrontation, un giusto confronto personale. E' importante alla fine la scelta, la scelta di prendere delle decisioni che rispettino la libertà e anche la responsabilità personale e responsabilità.